Siamo di nuovo insieme, ben ritrovati dunque a Confronti. Il programma che vi ricordo è realizzato in collaborazione con l'Ufficio Stampa del Consiglio Provinciale di Trento che mette a confronto gli esponenti di maggioranza e minoranza sui temi che vengono trattati dall'Assemblea o piuttosto che arrivano all'attenzione dei consiglieri. Allora vi presento subito gli ospiti di questa parte, per la maggioranza Luca Guglielmi, consigliere provinciale di Fassa. Buonasera. Buonasera, grazie per l'invito. Grazie a lei per averlo accettato e grazie anche a Maria Chiara Franzoglia, qui per la minoranza, consigliera provinciale del PD del Trentino. Buonasera, anche da parte mia. E vicepresidente del Consiglio Provinciale, poi insomma parleremo anche di questo. Ma vorrei partire da un tema che è molto delicato e che riguarda i piccoli comuni. Il caso delle difficoltà estreme insomma del comune di Luserna e il disegno di legge che lei, Guglielmi, ha presentato inquadrandolo anche nel dibattito che riguarda le minoranze linguistiche, visto che Luserna è la culla della minoranza cimbra, ha portato un dibattito più ampio in commissione su quella che è la gestione dei piccoli comuni, a partire magari dalle difficoltà di far quadrare i bilanci piuttosto che proprio di riuscire a recuperare del personale. Allora, noi sappiamo che la linea della maggioranza anche nella scorsa legislatura è quella di abbandonare quelle che erano considerate delle forzature, arrivare all'obbligo delle gestioni associate fra i vari comuni. Di sicuro però il tema adesso si pone soprattutto per i piccoli comuni e sono tanti in Trentino. Ecco, quale può essere la linea di indirizzo? Il mio Tdl nasce appunto da una necessità di un comune, proprio come dicevi molto bene te, di minoranza linguistica. Sappiamo che anche la regione individua proprio nel comune di Luserna, insomma, il difensore della lingua e della cultura. E quindi dopo appunto che la maggioranza ha deciso di consentire anche le amministrazioni di fare dei passi indietro rispetto a delle gestioni obbligatorie associate, il comune di Luserna appunto è rientrato, diciamo, ad avere completa autonomia gestionale, però lasciando per strada pezzi di personale che con la gestione associata sono rimasti poi nel comune, insomma, con cui queste erano state attivate. E da qui è nata la mia proposta che ha, come hai detto te, scatenato un bel dibattito e di questo sono anche felice. Anche il Cal ne ha discusso molto e animatamente e è stato un momento per poterne parlare, non solo sul calo di Luserna, ma per parlare di tutti i comuni e della difficoltà di reperimento del personale. Anche qui il Cal ha detto, bene, questo su Luserna, per carità, nessuno mette in dubbio il discorso culturale e linguistico, però è necessario trovare una quarta via che possa portare fuori dal guado tutti questi piccoli comuni che adesso si trovano seriamente in difficoltà. Ossia riuscire ad avere, quasi diceva già Moena, il Presidente del Consiglio dell'Autonomia, lo ricordiamo che è l'organo che rappresenta i comuni, in qualche modo riuscire ad avere una centrale di servizi per questi comuni che oggettivamente non ce la fanno. Lei condivide che possa essere questo il percorso? Diciamo quasi un pool che utilizza tutte le fortune che abbiamo tecnologiche in questo momento, quindi non è più necessario che magari un segretario o un ragioniere, piuttosto che un tecnico, siano fisicamente in ufficio, ma possono lavorare anche da remoto per dare appunto garanzie e sicurezza all'amministrazione di lavorare coerentemente e correttamente. La strada delle fusioni? Nel caso specifico di Luserna, l'ho sempre detto, l'hanno ribadito anche loro in quanto popolazione, è difficile, sappiamo che dista diversi chilometri sia da Lavarone che da Folgaria e soprattutto che la viabilità che ci accompagna a Luserna non è proprio di facile realizzazione. Quindi ecco, questo è un caso limite e specifico al di là della cultura dove effettivamente è impossibile pensare a fusioni, tanto meno a gestioni associate che come abbiamo ben visto in questo specifico caso hanno completamente fallito. Maria Chiara Franzoia, lei peraltro insomma è stata anche vice sindaca di Trento, quindi insomma gli affari dei comuni in questo caso grandi, li conosce bene. E questo è un tema assolutamente delicatissimo che davvero insomma abbiamo vissuto anche noi come amministrazione del capoluogo, ma ancora di più capiamo quella delle piccole amministrazioni. Certo il caso di Luserna, al di là della presenza ovviamente di un patrimonio di minoranza culturale e linguistica che è patrimonio di tutti, ovviamente noi sappiamo quanto funziona anche l'istituto Cimbro, però appunto ci riporta al centro il dibattito sulle amministrazioni che davvero insomma dobbiamo ecco nella logica anche delle diversità, delle posizioni aiutare, supportare. Speriamo insomma che questi siano cinque anni importanti in questo senso. C'è un tema soprattutto di attrattività del personale, ecco mi parlo questo uno, insomma appesantimento burocratico, normative sempre più complesse, l'Europa, la provincia. Ecco però penso che il cuore sia appunto l'attrattività del personale e appunto la capacità poi che questo personale anche una volta attratto, perché magari un concorso, magari no, ecco anche giovani competenze si possono attrarre, ma poi della continuità lavorativa in un posto e sappiamo che oggi le periferie ahimè appunto no, o poi si trovano altre come dire modalità no, di dire stare, il tema della casa, è il tema che uno poi lì si vuole costruire una famiglia, ma probabilmente ecco uno una volta formato, questo è successo anche nel comune di Trento, ecco perché ha fatto un concorso anche in provincia, perché nell'azienda provinciale no, si offre anche magari uno stipendio più alto e quindi possibilità poi no, di avanzamento nella carriera, ahimè insomma nei piccoli comuni c'è una moria appunto no, una appunto la possibilità e ahimè l'abbiamo vissuto la realtà che poi questi questi dipendenti appunto fugano. Quindi questo insomma tutte le possibilità, gli strumenti che abbiamo per poter aumentare, quindi siamo anche noi d'accordo sull'aumento, ma poi non dobbiamo fermarci all'aumento del numero del personale quanto alla capacità di appunto attrattività. Una delle soluzioni, ecco qui insomma divergiamo rispetto al pensiero, credo che ancora potremmo averla nelle fusioni o nelle gestioni associate, ecco la fusione mi dà l'idea di annullamento anche delle identità e di una cosa forzata dall'alto, ecco laddove poi è stata davvero forzata forse appunto no, abbiamo visto passi, non ha sortito appunto no, e non ha portato all'obiettivo positivo insomma che ci si aspettava, quindi sicuramente le gestioni associate, ma assolutamente trovare un ente consorzio dei comuni, il CAL piuttosto che un dipartimento della provincia, ecco che davvero supplisca a tutte quelle competenze burocratico-amministrative, no, oppure appunto usando le nuove tecnologie per sgravare i comuni di questo aspetto e che invece tanto tempo e tante risorse umane di competenze e intelligente possano essere utilizzate per invece insomma attrattività, partecipare a bandi europei, insomma sviluppare le potenzialità di ciascuna comunità. Diciamo che è un bel banco di prova per l'autonomia insomma del Trentino. Allora cambiamo argomento, riparto da lei Franzoia, Iniziamo appunto con il provvedimento che arriverà in aula il 9 di aprile riguarda la trasformazione temporanea in foristeria degli hotel dismessi, un modo si diceva anche in altre puntate per dare una parziale risposta alla carenza di alloggio soprattutto per i lavoratori stagionali. Diciamo che la norma era contenuta in termini di emendamento all'interno della variazione di bilancio, poi sia l'opposizione che appunto il Consorzio, il Consiglio delle Autonomie ha chiesto diciamo un maggior tempo e una dignità di disegno di legge a questo provvedimento proprio per andare anche a fugare alcune dubbi, mettere maggiori chiarimenti per esempio per quanto riguardava il rischio ad esempio di speculazioni. Così è stato, è passato in terza commissione questo disegno di legge dell'assessore Gottardi adesso arriverà in aula. Ecco Franzoglia le chiedo, questi tempi supplementari sono serviti davvero a fare maggiore chiarezza, a fugare anche i vostri dubbi? Come arriverete in sostanza in aula come posizione dell'opposizione? Certo, allora fin da subito avevamo dichiarato che non eravamo contrari al merito, ovviamente abbiamo fin da subito detto e capito che il tema c'è, è urgente sia nell'ambito appunto del turismo chiamiamolo così ma poi ampliandolo ad altre appunto tipologie di lavoratori e voi quelli dell'agricoltura ovviamente ma voi anche sappiamo insomma in ambito sanitario, socio-sanitario della scuola e via dicendo. Ecco, sì abbiamo chiesto però fortemente un tempo dedicato appunto, non una discussione dentro un disegno di legge appunto di variazione di bilancio che sappiamo poi porta per necessità anche per opportunità a vari temi ma appunto abbiamo sostenuto con forza il richiesta del Consiglio delle Autonomie di avere un ancora più tempo ecco per sviscerare una materia che davvero ha implicazioni urbanistiche, paesaggistiche, nazionali, di gestione, di modalità di gestione in un territorio diversissimo perché Trento poi da altri territori più agricoli, meno agricoli, più turistici, meno turistici ovviamente la diversificazione è insomma la nostra ricchezza ma anche la nostra difficoltà e quindi appunto io mi auguro, credo di sì appunto questo surplus di lavoro che c'è stato appunto con una serrata convocazione delle commissioni e appunto io so che anche di amministrazioni che si sono messi appunto con i loro tecnici a sviscerare la norma, credo che abbiamo fatto qualche bel passo in avanti e quindi sicuramente insomma ci sarà poi una giornata dedicata e insomma il via libera arriverà nei tempi giusti. Guglielmo, mi concorda o si poteva portarla a casa prima questo provvedimento? Beh, che il tema ci sia e sia sul piatto da diverso tempo questo è sicuramente noto a tutti, quindi non credo che prendersi un mese, un mese e mezzo in più per fare delle valutazioni oggettive, tecniche come è stato detto rispetto a un tema così importante sia una perdita di tempo anzi, tant'è che in commissione comunque si sono veramente posti in essere dei ragionamenti importanti e anche delle proposte, dei correttivi che andranno a venire sviscerati ancora adesso dall'approvazione in commissione alla prodo in aula del testo, così da avere effettivamente un testo sì condiviso ma anche sicuramente completo a 360 gradi. Riparto con lei Guglielmo, nei giorni scorsi c'è stato un intervento del corpo forestale in Valle di Fassa per allontanare dal centro abitato di Pera un lupo confidente che già altre volte si era fatto vedere fra le persone. Poi l'animale è scappato nel bosco dopo essere stato colpito per due volte insomma con delle munizioni di gomma. L'invito della provincia alle persone è innanzitutto quello a non mettere in atto comportamenti che poi rendano gli animali confidenti come per esempio dar loro da mangiare per poterli fotografare perché è successo anche questo. Lei però si è fatto interprete della preoccupazione insomma anche degli abitanti della sua valle e ha presentato una mozione che chiede alla giunta anche di arrivare diciamo all'abbattimento dei lupi andando in deroga rispetto appunto a quanto previsto. Ecco ci può spiegare questo? Sì il tema in Valle di Fassa ormai è di attualità. Giorno per giorno mi arrivano direttamente segnalazioni, filmati, foto, telefonate di persone preoccupate che evitano, cioè già da un paio di anni si evita di andare nel bosco magari nelle zone meno frequentate proprio per la paura di incontrare i lupi e quindi c'è anche una serena convivenza quindi cerchiamo di non andare a disturbare nel bosco però quando il lupo arriva costantemente in paese, in zone fortemente antropizzate, so passeggiate dove le mamme portano i bambini, abbiamo visto i video di questo lupo che la inseguiva inizia a diventare un problema. Ecco sinceramente non credo che impallinarlo con due proiettili di gomma sia un deterrente o una soluzione finale alla risoluzione del problema. Io credo che questi tipi di lupi specifici che si siano resi confidenti magari anche per colpa dell'uomo su questo non c'è dubbio vadano abbattuti completamente. È un segnale che dobbiamo alla nostra comunità ma lo dico anche da imprenditore del mondo del turismo non è bello che sui social ogni giorno in tutto il mondo si veda che la Valle di Fassa è frequentata da un lupo quindi credo che anche da questo punto di vista ci siano da dare delle garanzie anche al mondo del turismo. Franzoia, lei è d'accordo? Ma allora abbiamo da poco chiuso una discussione su un disegno di legge sull'orso e ovviamente in cui anche si è tentato appunto di inserire il tema del lupo perché sappiamo che come appunto nella zona ovest del Trentino c'è questa problematica nella zona est ma davvero poi ne abbiamo anche vicini a centri abitati anche nei fondovalle appunto la presenza anche del lupo. Quindi sì è urgente che questa maggioranza anche sul lupo intervenga per correttivi, contenimenti vuoi appunto seguendo la strada all'orso vuoi anche appunto con una gestione più ferrea perché la convivenza sta diventando davvero difficile e di difficile gestione. Sappiamo che appunto il tema è complesso che le normative discendono insomma dall'alto verso il basso però assolutamente dobbiamo seguire la strada parallela a quella che si è seguita con l'orso. Certo mettendo in atto, ecco su questo insomma non saremo tolleranti tutto quanto già oggi la provincia può e deve fare rispetto alle normative che insomma in questi anni appunto con errori e con appunto poi passi in avanti si è fatto. Quindi assolutamente tutte le cose che già si possono fare normativamente si devono mettere in campo e poi a divenire appunto alla scelta del contenimento come è stato fatto per l'orso. in progressione diciamo. Possiamo dirlo, una fortuna rispetto all'orso vado velocissimo che la prima muoversi è stata a settembre la Presidente della Commissione Europea a dire forse i lupi non sono più così pochi da meritarsi questo status di specie protetta quindi già anche in Commissione sta facendo un ragionamento per verificare il declassamento appunto di specie protetta del lupo. Diverso insomma rispetto ai plantigradi. Franzoia, cambiamo argomento il PD ha depositato un disegno di legge a prima firma Lucia Maestri per una legge provinciale che prevede disciplina e disciplini in modo diverso rispetto all'attuale la nomina dei direttori dei musei provinciali in sostanza, mi collega se sbaglio, tramite un concorso non in base a quella che è fino adesso anche sentiti degli esperti ma pur sempre una scelta politica. Sì, allora ho sostenuto anch'io convintamente questo disegno di legge della collega che ha principalmente due obiettivi quello di fare un passo in avanti rispetto alla normativa attuale rispetto appunto alla scelta dei direttori dei nostri musei ad oggi la norma parla appunto di una scelta all'interno del personale della provincia con una selezione diciamo interna la novità di questo disegno di legge è appunto di proiettare anche i nostri musei che ormai negli anni sono diventati importanti a livello nazionale ma non solo appunto dentro un contesto di cultura ormai di innovazione e davvero di progresso per tutti e quindi appunto di poter, ecco questa è la nostra proposta a divenire per la scelta del direttore ad un concorso nazionale, internazionale proprio per attrarre le migliori scelte quindi ecco questo insomma è il cuore del disegno di legge appunto di dare uno strumento in più alla provincia non di fare passi di lato o indietro di poter appunto attrarre anche in questo ambito sappiamo quanto abbiamo fatto progressi sui nostri musei di poter interagire, di fare sempre più squadra sul nostro sistema museale quindi assolutamente ecco non trattarli singolarmente anche perché poi sappiamo che importanti figure il musei, direttori di museo appunto a breve o sono già andati o a breve andranno in pensione ecco quindi è l'occasione davvero di fare questo salto di qualità a nostro avviso Senta, avete pensato a Sgarbi in tutto questo Sgarbi è un presidente, non è un direttore è presidente, però sappiamo che è un po' un factotum per quanto riguarda il MAR tanto che poi avete anche stigmatizzato le parole di Sgarbi nei confronti della consigliera maestra quindi non c'entra Sgarbi diciamo al di là del ruolo che è diverso Allora, ruolo assolutamente diverso Sgarbi è una nomina appunto della maggioranza non è novità insomma che la figura è discutibile rispetto appunto a nulla da dire sulle competenze ma insomma rispetto al personaggio ecco non ci trova d'accordo sulla scelta però questo è facoltà assolutamente della maggioranza della giunta e prima ancora insomma della maggioranza delle scelte noi siamo concentrati sulla figura del direttore Guglielmi, voi l'avete interpretata come una norma anti-Sgarbi e soprattutto non ritiene che in effetti sia corretto dare anche proprio più ampio respiro alla scelta dei direttori? Beh, è diciamo un po' normale pensare che chi l'abbia scritta abbia anche pensato a Vittoria Sgarbi nonostante lui sia appunto presidente e non direttore premetto che non è un tema che mi appassiona particolarmente ecco questo qua però la legge 15 del 2007 che istituiva questa modalità di scelta non l'ha scritta la maggioranza Fugatti l'ha scritta la loro maggioranza che adesso da minoranza dice che non va più bene come norma e che va cambiata stranamente quando da maggioranza si trova poi ad essere minoranza e questo credo che sia anche un po' politicamente il nocciolo quindi non siamo più noi in giunta a fare queste elezioni interne quindi facciamo subito una bella legge dove diciamo esternalizziamo la scelta su questi direttori e questo è un dato oggettivamente politico di cui bisognerà tenere conto Pranzoia, ci pensiamo è innovare e se non si innova in cultura davvero insomma nella relazione accompagnatoria scrivete proprio testuali parole il sistema è funzionato benissimo fino ad oggi da oggi in avanti non funziona più bene dobbiamo cambiarlo non l'ho scritto, l'ha scritta la consigliera maestra no 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 assolutamente no l'abbiamo sottoscritto certo certo questa è la sua posizione la sua lettura però appunto immaginiamo che ecco in questo momento la cultura della nostra provincia richieda un passo insomma verso un'innovazione spinta un cambio di passo allora abbiamo ancora circa 4 minuti Guglielmi una domanda per lei la quarta commissione del consiglio provinciale si è occupata dei giovani in merito anche al suo disegno di legge che riguarda il consiglio provinciale dei giovani in sostanza che necessità c'è di cambiare per quanto riguarda o di potenziare per quanto riguarda appunto questo organo rappresentativo dei giovani che si collega anche al consiglio provinciale e viene nominato dalla giunta questa è una proposta che è nata nella scorsa legislatura proprio dall'attuale consiglio provinciale dei giovani che lavorando appunto con gli strumenti e con la normativa vigente aveva diciamo notato diversi punti critici e quindi ha proposto una serie di modifiche proprio della legge istitutiva del consiglio al fine di poterlo migliorare e renderlo molto molto più esecutivo anche nell'azione e nei lavori quindi ripeto non è una proposta direttamente nata dal sottoscritto ma nata proprio dall'esperienza dell'attuale consiglio provinciale dei giovani per dare anche proprio maggior voce concreta ai giovani insomma lo sappiamo la politica di quanto ne abbia bisogno concludo con lei Franzoglia che da giovane ha iniziato a fare politica appunto dicevo lei insomma viene dall'esperienza il consiglio in giunta provinciale a Trento lei per la prima volta sede fra i banchi del consiglio provinciale è vice presidente del consiglio provinciale ecco come sono andati questi primi mesi ma allora è stato un grande cambio rispetto all'amministrazione pur anche insomma della città capoluogo lo dico in positivo e in negativo perché ovviamente la vicinanza e le modalità appunto dei comuni di un'amministrazione davvero vicina nelle concretezze delle piccole cose dei cittadini non l'ho più riscontrata in me in provincia ecco però dico anche che senza quella esperienza amministrativa che mi ha portato appunto a conoscere ecco i temi e i bisogni appunto dei cittadini sarei in grande difficoltà oggi a leggere una norma a capire dove intervenire dove migliorarla dove implementarla rispetto proprio a quei bisogni ecco quindi è bello sto facendo una bella esperienza con la vicepresidenza poi il presidente Soini cerchiamo ecco di gestire al meglio l'aula ecco che tutto porti davvero insomma maggioranza e minoranza a lavorare nelle migliori ecco nelle migliori condizioni e poi un grande lavoro lo stiamo facendo con l'accoglienza delle classi e questo insomma vale per tutti i consiglieri ovviamente di ciascuna posizione con appunto questo grande grande strumento che abbiamo della conoscenza di far conoscere ecco cos'è la nostra autonomia tornano alla necessità appunto di avvicinare i giovani alla politica abbiamo solo un minuto però le vorrei chiedere questo visto che lei ha presentato diversi atti politici magari anche traducendo un po' l'esperienza che ci diceva lei maturate negli anni passati tanti riguardano il sociale dal disegno di legge presentato sul sostegno alle attività di volontariato passando per una proposta di ordine del giorno sui piani di eliminazione delle barriere architettoniche e sensoriali veramente abbiamo pochissimo tempo però vorrei insomma sì come ha detto lei le ho portato appunto queste piccole grandi necessità che ho vissuto appunto da amministratrice del comune di Trento e ho voluto da subito concretizzarlo appunto in disini di legge e in mozione ecco dicevo senza questa esperienza ecco non avrei potuto portare qui insomma auspichiamo che anche su queste proposte la maggioranza ci ascolti ecco saremo a vedere nei prossimi settimane nei prossimi mesi noi abbiamo finito il nostro tempo a disposizione ringrazio Maria Chiara Franzoia del Partito Democratico e Luca Guglielmi di FASA grazie anche a lei grazie a voi ovviamente per averci seguito e noi ci rivediamo la prossima settimana arrivederci grazie a tutti grazie a tutti